Hanno preso in via a San Vitolo Capo i lavori di escavazione di 25.000 metri cubi di sabbia dalla zona esterna del molo di sottofrutto e di ripascimento dell'area allevante dell'arenile sabbioso dove negli ultimi anni si è verificata una forte erosione. Gli interventi sono stati finanziati con risorse comunali per un ammontare di 382.000 euro. I lavori arrivano dopo quasi due anni su questa progettazione. Sicuramente questo è un intervento tampone. Come comune ci siamo impegnati anche con le risorse economiche tutte comunali, 490.000 euro e il primo intervento di un percorso ancora più lungo perché abbiamo già programmato e impegnato 114.000 euro di risorse comunali per la progettazione definitiva ed esecutiva all'interno dell'area portuale. In questa prima fase nell'area portuale verrà eseguito un piccolo spostamento di sedimenti sabbiosi. Intanto al Teatro Comunale l'amministrazione comunale ha presentato una proposta di rimodulazione della configurazione delle opere forane finalizzata alla mitigazione dell'erosione del litorale sabbioso e alla piena valorizzazione del porto di San Vitolo Capo. Bisogna pensare a risolvere quelle che sono le cause dell'erosione e sicuramente la causa dell'erosione è l'azione dell'uomo che negli anni 50 ha costruito un porto che poi è stato ulteriormente ampliato. La proposta progettuale è stata redatta dalla Società di Ingegnere Costiera Progetti e Opere di Palermo il cui direttore è l'ingegnere Elio Ciralli. Il progetto sulla nuova configurazione del porto ammonta a circa 25 milioni di euro.